Se invece di stare con noi, mi mettevate insieme voi due, eravate una coppia perfetta. Meno rottori di scatole, meno stress. Invece avete trovato si due rompipalle. Peggio per voi, no? Come peggio per voi? Ma BriBri, io contesto benissimo. Angela è incredibile. È una donna eccezionale. Ah sì? Poi da uomo a uomo, se la vedi sinura, è da sicuro, è da standing ovation. Prizio! Beh, allora, visto che siamo entrati in confidenza, anche Gabriele, insomma, è un bel vulcano di idee, eh? Soprattutto a letto. Lisa, dai, per favore. Ah, ma quello che è giusto, è giusto, eh? Angela, mio marito è un uomo da provare. Ma perché non è stato mai con Angela? Ma dai, Fabrizio! Ma scusa, sei una donna come te, piace fare l'amore, ha fantasia. Ma che male c'è, andiamo. Ma che male c'è? Che male c'è? Ma non mi sembra il momento. Ma se c'è una cosa che Angela fa veramente bene, credetemi, ve lo dico con il cuore in mano. È il sesso orale. Alcune un goccio? Ma diamo su, sono qualità, vero Gabriele? Assolutamente. Ma smettila, Fabrizio, cambiamo discorso. È tutto talmente imbarazzante. Oscar Wilde diceva che il matrimonio è una croce così pesante che bisogna portarla in tre. Il te è naturalmente l'amante. Noi siamo così fortunati che la portiamo in quattro. Siamo come una grande famiglia. C'eravamo una bella mucchiata. Sai, risate. Eh, che ho detto? Vabbè, io mi vado a fumare una sigaretta che a te dà fastidio, eh? Vengo anch'io. Vengo anch'io a fumare con te perché anche Gabriele dà noia il fumo. Ma come farete a baciarci i costifiati? Ma perché voi due intanto non andate a ballare, eh? Ma non balla nessuno? Eh, vabbè, ma perché sono timidi, sono svizzeri, un pochino ritrosi. Qualcuno deve pur dare il buon esempio, no? Dai, amore. Vieni. Ma vieni. Andiamo, vieni. Su, forza. Sarete la coppia più bella. Anzio Tom. Vai, fatevi un po' di... Se l'è una cosa d'amore, come senti, ti scappa da buccià. Certo. Suonala. Brava. Prego. Apri qui. Se l'è una cosa d'amore, come senti, ti scappa da buccià, ti scappa da buccià. Fa.